Dio un'occhiata, Giuseppe. Desidera? Che... Quelle zigulì. Ne vado ghiotto, quindi... Serve altro, ho visto che era interessato ai nostri profilattici. Ah, ha notato. Ma se insiste, mi parlavano di una... anello. Ah, l'anello del piacere. Come no, eccolo qui. Me lo incarta, grazie. Sa come si usa? Ci saranno le istruzioni e... Vediamolo insieme. Ma perché? Non si preoccupi, sono qui per questo, è il mio lavoro, lo faccio volentieri. Non è necessario. Signora, c'è una linea di demarcazione, va rispettata. Allora, vabbè, questo è l'anello, insomma, mi sembra abbastanza chiaro. Però vediamo bene l'utilizzo. Allora, indossare l'anello sul pene, ben eretto, facendolo scorrere. Quindi, bene eretto, questo si infile e scorre, proprio scorre sul pene. Nel caso di insistere con... Lei è presente, no? Il pene eretto, dico, a lei capita? Sa di cosa stiamo parlando, insomma? Ma certo che mi capita, non so cos'è un pene... Signora, è una cosa un po' privata, non ci sono altri reparti forse più interessanti, no? Allora, per la massima stimolazione della clitoride, mantenere il dispositivo vibrante rivolto verso l'alto, per il glande e verso il basso. E qui andiamo a chiudere e mi incarta... Quale serve per la clitoride o per il glande? Non lo so. Ma è importante saperlo, così le spiego bene, magari... Non lo so, adesso mi faccia arrivare a casa, ci sediamo intorno a un tavolo, ragioniamo anche su queste tematiche. Va bene, va bene, ok. Vediamo l'accensione, eh. Ah, bisogna pigiare questo. Sì, quello ci arriva anche... Qua pensi garantisce 20 minuti di vibrante piacere per lei e la sua partner. Comunque va bene questo qui. Va molto bene, me lo incarta, grazie. Senta, i profilattici invece... No. Sicuro? Guardi che sono molto buoni, eh. Qui abbiamo Contatto Ultra, poi c'è Tropical, abbiamo Love, poi c'è Defensor, poi abbiamo Performa e Play Sur Max. Cos'è il gioco dei mini? Me le stai imitando tutti? Basta, capite. E se non abbiamo gli XL, ecco qua, gli extra large per dimensioni sopra la media, ma mi faccio vedere... No, per lei va bene una small. Guardate che cosa sta cosa guarda, che small? Adesso non è sede, però le garantisco che altro che small, che non posso esibire... Senta, oli lubrificanti? No. Per lui? No. Per lei? No. Per la famiglia, amici? Che famiglia, amici? Cos'è la svendita? No, ce l'ho. Peccato, peccato, questo è veramente ottimo, perché vede, signora, specialmente nel caso del signore che ha il pene piccolo... Ma che pene piccolo? Che pene piccolo? Questo pene piccolo. Quindi va bene, solamente l'anello, allora vado in magazzino a prenderle una confezione sigillata. No, va bene questo. Eh no, no, questo qualcuno l'ha aperto. Ma lei l'ha aperto, l'ha aperto lei, glielo dica. Una cosa, la vuole dire che l'ha aperto lui? Vado. Ma tu guarda. Non sia imbarazzato. Grazie, che volte... Anche mio marito ce l'aveva piccolo. Un burro di cacao.